Lo sai che a Desnò che esiste un tempio dove vengono venerati i topi? È il tempio di Carnimata. Molte persone percorrono grandi distanze per rendere loro omaggio. Mangiare il cibo rosicchiato dei topi è considerato un atto di onore. Nel rispetto della cultura indiana, come in tutti i templi, si entra a scalzi. Ma ai visitatori è concesso entrare con i calzini e delle cuffiette protettive. E tu, ci interessi mai?